La terza età aiuta le nuove generazioni. In più di una famiglia, su tre i nonni aiutano il bilancio domestico, con una tendenza accentuata dalla crisi scatenata dalla pandemia. L'indagine col diretti, resa nota in occasione della festa dei nonni, coinvolge circa 12 milioni di persone che spesso contribuiscono al bilancio familiare. La presenza di un pensionato in casa viene considerata dal 38% degli italiani un fattore determinante per contribuire al reddito familiare. Mentre il 35% guarda i nonni come un vaido aiuto per seguire i bambini fuori dall'orario scolastico. Poi c'è un 17% che, continua col diretti, ne apprezza i consigli e l'esperienza, ed un 4% che si avvantaggia del loro sostegno lavorativo a livello domestico. Solo un residuo 6% considera i pensionati un peso o un ostacolo. Ed allora come festeggiare i nonni? I salentini sembra proprio preferiscano farlo con un fiore. I nipoti cosa stanno comprando per la festa dei nonni? Beh, soprattutto piantine fiorite, ciclamini, tutto ciò che riguarda i fiorellini, poi dei buche misti. Qual è il messaggio che si regala con un fiore? Beh, sicuramente affetto, poi un po' d'allegria non fa male. Grazie. 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 Grazie.